Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su TCG Television da Daniel e da Scla e finalmente abbiamo deciso di farvi contenti e portarvi nuove bustine di calciatori adrenalin XL quindi serie A 2015-2016 ma non una semplice bustina, bensì la Power Edition che come vi ricordate se avete visto i video precedenti si tratta di un'edizione speciale uscita in esclusiva a Lucca Comics e poi riproposta in vendita solo online sul sito della Panini ma a box interi purtroppo e la chicca è che se vi acquistate il box intero vi danno la limited edition di Zeko ma vabbè noi abbiamo solo due pacchetti che ci apriremo dopo la sigla bene siamo pronti per spacchettare e vedere chi trova la carta migliore bene cominci tu comincio io dai cominci io tu hai il pacchetto con Zeko con Pogba che si trovano in versione fuoriclasse solamente ho aperto una perfetta eh questo non saremmo a cociare no è bueno è Kinder mi insegna la faccio però non esce spingi spingi parturito sta partorendo aaaaaaah oh ok oh sbrillucci è tutto uno sbrilluccichio e vai mbaie mbaie mazzo è tutto nero mbaie Antonio di natale capitano questa è la new generation capitano di natale questa è girata quindi vediamo dopo questa è girata tutte girate tutti così poi si copre la prima poi si spizza ci godiamo l'apertura vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' e sembra aaaaaah Mauro Riccardi capo cannoniere capo cannoniere pensavate fosse fuoriclasse io per un attimo io ho pensato ho fatto no no oh oh e dai che stavolta è capitato a te eeeh 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 daniele croce dell'empoli idolo della curva idolo della curva questo pacchetto è una merda per me perchè ho già tutto tutto quanto vabbè dai io no pure questo a me manca 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 devo controllare tocca moi cacca pacchetto cacca non si rompe non si si sono fatti bene non si spazza siamo resistenti agli ulti e agli impatti resistenti ai palloni ooooh che ho visto gg buffan capitano mi manca branda fassuolo ci sono riusciti a trovare una base belluto teammate vabbè carterare quindi possiamo fare la tua stessa operation tac ancora buffan ancora buffan fantastico incredibile un mister che ho visto? dai capelli bianchi mandolini son erato ovviamente ormai mister no 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 bianchi e no no si salva no 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 faceva tanto il gaggio e l'ha trovato e sono a otto ma sempre ecco un altro un muro un muro un muro un muro della fiorentina che è tatarusano io non so se mi manca io spizzo la mia cetta è un difensore insuperabile che è un albiol questo mi manca e poi abbiamo finito perché abbiamo di nuovo Peluso vediamo un po' abbiamo un pallone una palla veramente una palla questa carta siamo una palla un difensore insuperabile per uno una carta record un generation un capitano un capitano che l'hai anche tu quindi palla palla capitano capitano un difensore difensore questa è una pari tu c'è ti metti c'è il new generation o la carta record se vogliamo beh io c'ho l'allenatore pure eh ma sa che c'hai qui il foil di me cioè io c'ho la foil questa ma considerata a voi la sentenza quasi fatta si ma vabbè dai siamo divertiti così soprattutto a trovare il pallone beh ragazzi per questo video è tutto io vi saluto e ci vediamo come sempre presto con un nuovo video ciao ciao ciao